Le due basche sullo sfondo sono basche di mare aperto. Sulla parte destra sono tutti gli ambienti che si possono trovare nel corpo di Napoli. Quindi tutto il perimetro è una finestra sul Mediterraneo, sul nostro corpo. La parte centrale invece è la parte tropicale. Quindi una finestra sul circuito tetico per il riscaldamento globale dell'arrivo delle specialità. Qualsiasi cosa, io e la mia collega siamo all'interno, potete fare le domande che volete.